segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora intanto partiamo da quello che pensano ando pagnoncelli gli italiani di quello che sarà il percorso della nostra economia cosa pensano in realtà nonostante il quadro sia meno peggio di quanto molti temessero sappiamo che i dati sull'occupazione sono stabili sappiamo che ha aumentato il tasso di occupazione di 1 0 2 sono comunque 37 mila posti di lavoro in più nonostante in qualche modo l'inflazione abbia iniziato a rallentare e nonostante abbiamo scongiurato finora il problema recessione prevale pessimismo lo vediamo con cartello 1 il 34 per cento delle persone che abbiamo interpellato pensa che nei prossimi sei mesi la situazione complessiva del paese peggiorerà dal punto di vista economico 29 per cento è ottimista 27 per cento non si aspetta grandi cambiamenti e il 10 per cento non è in grado di esprimersi allora presente 23